Musica Quindi è l'unico spettacolo in cui potete tenere acceso il telefonino Ma perché vi chiamate banda Osiris? Bannaro L mode de primero Professore! Ma che Americano scopo Ecco il scopo Sono un amici, una stella marina per la leggerezza della misteriosa, mentuosa. Avversi il poema! Ispirazione dei grandi poeti, i nostri contemporanei come Ariosto, Metastasio, Foscolo. Che provava strani voglia, vengo con un magma, si soffia una voglia. Un magma per lo strosta, apparirà, apparirà. Gira il foglio, che lo viena, lo viena. No! Siamo la banda più piccola del mondo. È stata questa la nostra resistenza. Siamo la banda più piccola del mondo.